Ancora un locale chiuso dalle forze dell'ordine ad Arezzo. Dopo l'episodio della scorsa settimana a Villaggio Dante, dove un bar ha abbassato la Saracinesca per una serie di reati legati allo spaccio di stupefacenti, questa volta è stato chiuso un negozio di vicinato nel quartiere di Saione. L'intervento è stato portato a termine dalla Polizia Municipale di Arezzo durante i consueti servizi di controllo di attività economiche già in precedenza oggetto di varie criticità. Gli agenti hanno così dato corso all'esecuzione dei due provvedimenti seguiti ad ordinanze prefettizie. La Polizia Municipale ha provveduto alla chiusura del bar del Villaggio Dante, dove nei giorni scorsi la squadra mobile della questura Aretina aveva stroncato un giro di cocaina con l'arresto della titolare. Il locale dovrà restare chiuso 30 giorni, 10 invece giorni di chiusura per il negozio etnico di Via Piave, già finito più volte alla ribalta delle cronache per sanzioni sia amministrative che penali sul rispetto delle normative di settore ed anti-Covid.